Buongiorno, siamo qui con Benigni Riccardo, titolare dell'omonima ditta Boschiva. Buongiorno, con Riccardo volevamo sapere innanzitutto anche lui da quanti anni è che fa questo lavoro? Allora, come ditta sono nove anni, prima ho lavorato tre anni presso un'altra ditta come operaio, come dipendente. Riccardo, diciamo che il lavoro dell'operatore forestale, il lavoro dell'Itta Boschiva è un lavoro abbastanza pericoloso, per non dire molto rischioso. Ci puoi raccontare di un evento, di una situazione particolare che ti è capitato, che è capitata anche ai tuoi collaboratori? Certo, c'è da dire che noi in provincia di Trento siamo obbligati a fare dei corsi, di conseguire un patentino per poter lavorare. Però, per quanto si possa fare dei corsi, la cosa più importante è comunque l'attenzione che si presta nel cantiere, perché ogni bosco è diverso, ogni pianta è diversa e quindi bisogna prendere le precauzioni adeguate. A me personalmente è successo, una volta stavamo lavorando in un cantiere di schianti, di piante abbattute, tirate giù dalla neve, che era un posto molto particolare perché era pieno di crepacci nella roccia, era pieno di sassi e quindi c'era da prestare parecchia attenzione a quello che si faceva. In particolar modo c'era una pianta che era anche abbastanza grossa, era circa 60-70 cm di diametro, che era ancora in piedi però era stata piegata dal vento. Era in una posizione particolare perché era vicino a delle rocce e allora, vedendo il pericolo, ho dovuto chiamare i miei collaboratori, fermarli, a farli allontanare dalla zona di pericolo e insomma con le motosie che erano spente in modo che non si sentissero il rumore che se mi fosse successo qualcosa avrebbero potuto soccorrermi. Dopo, una volta che ho messo gli altri in sicurezza, ho proceduto col taglio, il posto era brutto quindi le vie di fuga erano poche e io ho scelto una via di fuga, quella che mi sembrava la più sicura, insomma sono scappato, la pianta nel cadere è scivolata, mi ha colpito un po' sulla gamba, fortunatamente i miei collaboratori erano vigili, hanno potuto subito soccorrermi, insomma è tutto andato bene. Ok, benissimo, quindi comunque anche come dicevamo all'inizio, l'accortezza e il capire anche la situazione critica dell'ambiente di lavoro ha consentito diciamo di salvarsela con una piccola botta alla gamba e non andare diciamo in situazioni un pochino più complicate anche dal punto di vista della salute. Quindi oltre che alle attrezzature, oltre appunto al discorso della formazione, anche il capire sul momento la pericolosità e l'evento imprevisto che può capitare è diciamo un segno importante per capire che all'interno del bosco bisogna essere sempre vigili e lavorare con sicurezza. Io Riccardo ti ringrazio, presto ci vedremo in video, ciao! Grazie a te, ciao!